I nostri orologi sono corredati di certificato d'orologeria Svizzera e registrati nell'archivio internazionale, il sistema che garantisce la massima sicurezza a chi acquista un orologio. Il certificato di registrazione CHS nasce in Svizzera e deriva dall'acronimo Certification d'orologerie Swiss. È un vero e proprio documento di autocertificazione che registra le informazioni relative all'orologio. Marchio, Referenza, Matricola e Meccanismo, le quali verranno inserite nell'archivio internazionale CHS. In questo modo, oltre a legittimare i dati degli orologi nuovi, questo certificato risulta essere un efficace documento identificativo degli orologi usati d'epoca e vintage che da anni girano sul mercato e necessitano di una maggiore attenzione per quanto riguarda la loro tracciabilità, un utile strumento per garantire i vostri acquisti.